L'avviamento al lavoro dei vecchi di quel periodo era certamente minore, parliamo prima della guerra, dell'ultima guerra, l'avviamento al lavoro era meno perché erano bastimenti più piccoli e addirittura c'erano ancora dei veglieri che attraccavano a Savona, specialmente nella parte della Toretta. Quando iniziavano la nave loro andavano avanti sempre dal mattino alla sera finché c'era luce e le donne, questo è uno dei racconti, le donne li portavano da mangiare a mezzogiorno, partivano dal Bissuolo, venivano a piede, addirittura partivano dal Bissuolo con la strada vecchia perché la via Aurelia attuale è del 1935 e quindi in precedenza facevano tutta la via, andavano ai valori e poi scendevano giù e scendevano in porta a portarli da mangiare e poi ritornavano a casa. I mariti arrivavano allora, lavoravano finché c'era luce, c'era molto meno, era un'attività almeno da quello che sono i ricordi che mi hanno trasmesso, era un'attività che era completamente diversa da quella di oggi perché gru c'era poco e niente, se non niente, addirittura passavano sulle passerelle con le coffe di zolfo oppure di carbone, di carbone di legna che arrivava dalla Sardegna, quindi siamo in quei periodi. Nell'immediato dopoguerra, con una maggiore industrializzazione, anche il porto ha cambiato. Siccome l'attività portuale di per sé non permetteva di far vivere una famiglia, avevano necessità di un altro reddito, ecco perché c'era l'orto, l'orto serviva per arrotondare la mensilità perché a volte stavano due o tre mesi senza, io dico solo cose che mi sono state trasmesse perché non c'ero, stavano magari due o tre mesi senza lavorare perché non attraccava niente. Poi magari il lavoro, ma il lavoro del porto ha avuto sempre queste punte massime e minime, ancora adesso in parte ce l'ha, però in allora era certamente più acuta la questione rispetto ad oggi. Poi erano pagati solo e esclusivamente per la movimentazione delle merci che movimentavano, per cui voglio dire se per un mese non c'erano navi non portavano salari a casa. C'era la chiamata per loro perché la compagnia esisteva già, la compagnia portuale esisteva già, ora mi pare che il mio bisogno fosse uno dei fondatori, perché siamo prima del Novecento, quindi potevano anche fare un viaggio a vuoto come succedeva anche a noi di fare dei viaggi a vuoto. Certamente per loro era più complicata rispetto che per noi.